Noi noci! Da Roma, da Roma! Siamo andati su Io Edo, e lui ci fa tutto il beletto. Eh, si vengono sbagliati perché aveva venuto domani. Però, niente, prendiamo qualcosa, ma, ecco, avete anche scoperto il costume della... Da Roma. Sì, sti! Non lo so! Vai, 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 vai Vai, vai, vai! Bravo! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.